Il copione originale di questo video doveva parlare di un solo bug di Windows e questo video stesso sarebbe dovuto uscire settimana scorsa ma in realtà ho fatto uscire questo video quindi adesso parliamo, come avete già detto dal titolo, di due bug di Windows uno è più recente e sarà a più presto risolto da Microsoft invece l'altro è un po' più vecchiotto e a quanto pare continua a persistere Dunque, il primo bug di Windows di cui vi voglio parlare riguarda il trasferimento di file Ora che Windows abbia uno o due bug è una cosa risaputa, è sempre avuto bug Tuttavia, un bug che riguarda il trasferimento di file è una cosa dal mio punto di vista piuttosto insolita perché la copia di un file è un'operazione così fondamentale in un sistema operativo che dal mio punto di vista non sarebbe dovuta cambiare dai tempi di DOS Eppure, non è così, evidentemente avranno fatto qualche cagata E adesso andiamo a vedere di cosa si tratta A inizio ottobre di quest'anno, gli utenti di Windows che avevano installato la 2022 Update di Windows avevano riscontrato un rallentamento nel copiare i file presi da un computer remoto all'interno della stessa rete locale E questo bug si verificava soprattutto quando venivano copiati file di grosse dimensioni Ora, non è ben chiaro cosa si intenda per file di grosse dimensioni ma si parla di file di alcuni giga Ora, per chi non lo sapesse Windows per gestire i file condivisi all'interno di una rete remoto utilizza quello che si chiama il protocollo SMB Gli utenti hanno riscontrato un rallentamento fino al 40% E quando Microsoft ha iniziato a investigare su questo problema pensavano che l'appodete che avessero fatto in qualche modo andava a intaccare lo stesso protocollo SMB Ma in realtà non è così Perché i disagi stavano altrove E li vediamo dopo la sigla Benvenuti e ben ritornati a Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News Io sono Valerio e oggi parliamo di due bug di Windows Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale E inoltre se volete seguitemi su Instagram Qui troverete il mio tag dove porto anticipazioni di video che poi alla fine saranno pubblicati su questo canale E quindi non perdiamoci in ghiacchie e andiamo a vedere qual era il bug sul trasferimento dei file Microsoft ce l'avrò in queste settimane E dopo essersi rilassati perché c'è stato il weekend del ringraziamento hanno trovato il bug che sarà rilasciato al più presto in una nuova updated Windows che come tutte le updated Windows si sistemerà questa e ne sfascerà un'altra Ovviamente a noi non è dato sapere esattamente qual era il bug ma lo sviluppatore di Microsoft NetPile ha specificato che questo bug si verificava in qualunque tipo di trasferimento di file non solo quelli presi da un computer remoto all'interno di una rete locale anche quando venivano trasferiti file di grossa dimensione all'interno dello stesso computer e quindi quando hanno scoperto che questo difetto si verificava sempre hanno detto che il bug non sta nel protocollo SMB E dove sta? Nel kernel di Windows Ecco perché prima della sigla ho detto che a me sembra una cosa strana che ci sia un bug di questo tipo visto che è una cosa così fondamentale che addirittura è codificata come mi sarei aspettato ovviamente all'interno del kernel di Windows Evidentemente qualcuno avrà sbarbellato qualcosa e questo bug sarà risolto nei prossimi aggiornamenti cumulativi che dovranno da quello che ho capito uscire a giorni Nell'attesa del prossimo aggiornamento cumulativo Microsoft ha dichiarato un workaround cioè ovvero un trucco per ovviare a questo problema che è praticamente quello di utilizzare questi due comandi che vede in schermo robocopy o xcopy da linea di comando E' pazzesco che Microsoft suggerisca un workaround dicendo di utilizzare la riga di comando dove negli ultimi 30 anni ha creato proprio il suo business dicendo di non utilizzare la linea di comando perché loro hanno confezionato tutto in finestre pulsanti con l'uso del mouse togliendo all'utilizzatore medio la vera necessità di utilizzare la riga di comando Per chi è un utilizzatore Linux come me sa benissimo che l'utilizzare la linea di comando è fondamentale non che è un piacere Però Windows adesso dice no l'utilizzate xcopy Adesso passiamo alla seconda notizia che parla del secondo bug di Windows che ha a che fare con i computer portatili Questa notizia viene da un video di YouTube in inglese che io in maniera di tutto eccezionale non metterò alcun link in descrizione Il motivo di questa cosa è che i commenti iniziali e finali di questi YouTuber americani non mi sono piaciuti Però procediamo con ordine Per chi ha un portatile con Windows installato magari si sarà trovato nella condizione di mettere il computer in borsa e di riprendere il giorno dopo completamente scarico Noi ci aspettiamo che il computer vada in sospensione e che comunque dovrebbe consumare il minimo indispensabile di energia per tenere viva la RAM e quindi se uno ce l'ha al 100% magari si aspetta di trovarla al 98% o al 95% dopo diverse ore ma non a zero E molti riscontrano anche che i portatili che sono stati messi in borsa e vengono poi ritirati fuori sono bollenti Questi YouTuber hanno fatto diverse prove Il problema sta nel fatto che Windows insieme agli sviluppatori di processori hanno messo a punto un nuovo tipo di sospensione che non solo mantiene la RAM alimentata ma tiene anche acceso il processore e la scheda di rete Questo lo si fa perché consumando quel po' di più di energia elettrica permette al computer di eseguire alcune task fondamentali tipo ricevere email che per molti di noi me compreso è fondamentale Ora io non ho un computer portato il Windows ma ho un Mac che ha la stessa funzionalità e ha anche lo stesso problema a me capita di rimetterlo in borsa e poi lo tiro fuori ed è completamente scarico anche se personalmente non ho mai riscontrato un aumento della temperatura Windows e Mac hanno lo stesso bug? Non penso proprio Focalizziamoci su Windows Il bug trovato da questi YouTuber dopo diverse prove che hanno fatto sta nel fatto che quando il computer non è collegato alla rete elettrica col caricatore quando viene chiuso lo schermo va in sospensione più o meno quella classica Praticamente Windows gestisce due tipi di sospensione nel momento in cui viene chiuso lo schermo quando non è collegata la rete elettrica ovvero l'alimentatore e quando invece è collegato all'alimentatore Quando è collegato all'alimentatore e viene chiuso lo schermo la modalità in cui va Windows in sospensione si chiama S0 che permette anche di avere in memoria Windows Update Tuttavia a molti di noi può capitare di avere il computer chiuso attaccato alla rete e poi per esigenze di lavoro magari ce ne dobbiamo andare e quindi stacco il computer dalla rete elettrica e me lo porto Quando viene staccato il computer dalla rete elettrica Windows non riconosce che c'è stato questo stacco e continua ad avere tutti i processi che quella modalità S0 di sospensione prevede e quindi fondamentalmente quando in quella modalità anche di consumi ridotti si collega a internet e esegue i task di Windows Update che tengono sempre la CPU occupata causando un consumo di energia elettrica eccessivo che alla fine si traduce nel ritrovare lo scarico dopo diverse ore I commenti che hanno fatto YouTube e da cui ho preso queste notizie perché dico che non mi sono piaciuti? Sia all'inizio che alla fine del loro video dicono Ah, noi siamo tre anni che diciamo a Microsoft di questo bug e allora loro ci stanno ignorando quindi noi non faremo più recensione di portanti di Windows Allora voi avete un canale che fa questo quindi secondo me dovreste continuare a farlo Secondariamente la mia domanda è avete contattato Microsoft comunicando il bug tramite il canale ufficiale o semplicemente facendo video Quando loro effettivamente hanno contattato Microsoft tramite i canali ufficiali dicendo che c'è questo bug e perché ne sono stati ignorati posso capire il loro magari di senso però non capisco perché non continuare a fare quello che loro fanno visto che hanno tantissimi subscriber e non mi pare giusto utilizzare un mezzo di comunicazione quale YouTube per fare questo genere di come posso definire rappresaglie Microsoft o fai quello che dico io oppure non faccio più recensione di computer che hanno il tuo marchio non lo trovo una cosa dal mio punto di vista molto professionale Benissimo Pinguini fatemi sapere nei commenti se avete riscontrato entrambi i bug di Windows vi siete trovate nella condizione che trasferendo fare di grosse dimensioni la velocità si sia ridotta inoltre avete un portatile con Windows io non ce l'ho ma avete riscontrato che quando lo mettete in borsa il giorno dopo lo trovate completamente scarico come vi dicevo io come Mac lo riscondo io so che con Mac posso disabilitare questo tipo di sospensione su Windows 11 da quel che so non c'è più questa funzionalità cioè è così e basta perché come vi dicevo non ho un portatile con Windows e quindi onestamente non mi interessa più vi volevo semplicemente passare queste notizie quindi io vi ringrazio come al sodio per aver guardato fino a questo punto vi rimando agli altri video di FK Breaking News qualora ve le siete persi ve le andate a recuperare e quindi grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao Kilo